Si racconta che ieri pomeriggio si sia presentato al gruppo con un discorso che ha fatto breccia nel cuore e nella testa di tutti. Davide Nicola del resto non solo ha consolidato sul campo e con i risultati la fama di specialista in missioni ai limiti dell'impossibile, ma anche conosciuto per essere uomo di grande spessore e dei forti principi morali. Capace di motivare i calciatori di ottenerne sempre impegno e dedizione alla causa ai massimi livelli, Nicola è un allenatore che ama incidere sulle squadre che prende in corsa puntando sul collettivo, sulla coesione e sull'organizzazione tattica per poi consentire anche al talento e alle qualità dei singoli di esprimersi al meglio. In carriera ha vinto comunque centrato gli obiettivi per i quali era stato chiamato in causa più spesso col 3-5-2, ma ha praticato anche altri moduli e di sicuro non è un integralista. Del resto la seretana è stata rivoluzionata a gennaio dalle numerose operazioni di mercato condotte da Walter Sabatini e le caratteristiche dei calciatori e della Rosa Granata si prestano a varie soluzioni, ma forse la necessità di dover vincere tante partite e l'abbondanza di mezzi e ali, tre quartisti e calciatori offensivi dovrebbero spingere l'ex allenatore del Toro a propendere per uno spartito tattico che preveda la presenza di diversi elementi portati ad attaccare. Ovviamente sarà sempre importante preservare gli equilibri generali. Difesa a 4, centrocampo a 3, 3 elementi offensivi. Questo potrebbe essere il canovaccio tattico di partenza, ma non sono esclusi anche passaggi al 4, 2, 3, 1, 4, 4, 2. Nicola debutterà sabato contro il Milan, primo in classifica e da considerarsi una sorta di golia ed allora chi meglio di un Davide per provare a stupire subito.